Io sono convinto che come nessun altro scrittore della letteratura e della cultura italiana Machiavelli sia tanto famoso, tanto noto, quanto conosciuto poco e forse si potrebbe dire conosciuto male. A nessuno verrebbe poi in mente di dire e di sentire il disagio nel sentirsi interrogare a questo punto il pensiero di Gian Battista Vico o di un altro pensatore della cultura italiana, presenti per chi debba restituirne il profilo a altrettanti problemi perché si possono avere poi idee diverse, interpretazioni diverse, però sostanzialmente non ci sono mai state su questi autori controversi e così terribili come quelle che sono insorte sul pensiero di Machiavelli e in modo particolare per la prima, in certo senso, delle opere di Machiavelli ovvero la prima delle grandi opere ad essere stata scritta, la più famosa di gran lungo, la più famosa delle opere, cioè Il Principe. Ecco, che cosa è Il Principe esattamente? Quando è stato scritto? Perché è stato scritto con quel carattere? Il Principe è dal punto di vista della definizione letteraria del genere, non è niente altro che un'opera sul principe cioè sulle caratteristiche che il principe deve avere, sui comportamenti che deve seguire, sul modo che deve osservare per conquistare gli stati e poi per non perdere gli stati che ha conquistati, per governarli in modo virtuoso in modo che l'insidia della fortuna non possa avere ragione della solidità della costruzione. Da questo punto di vista non è un'opera che abbia nella struttura particolari caratteri di novità. Ecco, da questo punto di vista nella struttura ha caratteri di novità, sei maggiore l'altra grande opera di Machiavelli più grande, è vero, a mio modo di vedere, del Principe, più grande non solo per l'estensione materiale ma anche per l'altezza per così dire, o la profondità, se si preferisce, del pensiero che vi raggiunge, cioè i discorsi sulla prima decada di Dito Livio. I discorsi sono effettivamente un'opera di genere molto particolare, un'opera politica, di riflessione politica è vero che si svolge, è vero, nella forma, anche peraltro abbastanza libera, è vero, di un commento ad un'opera classica cioè alla storia di Livio, alla prima decada di Dito Livio. Ecco, questa sì, effettivamente è un'opera di genere, è vero, molto particolare. Il Principe no, è un trattato De Principe o De Principatibus, questo può del resto essere il titolo, è vero, latino che Machiavelli mise all'opera. Naturalmente perché, è vero, questa opera ha suscitato un clamore, per così dire, nella coscienza europea così grande e che non si è placato mai? Beh, perché questa è l'opera, dico, in cui, è vero, in un paio di capitoli almeno, ecco, forse il quindicesimo e il diciottesimo in modo particolare, tenere presente che l'opera è costituita di 26, non lunghi, capitoli, ecco, tranne il diciannovesimo sono capitoli abbastanza brevi, tutto sommato, perché in questi due capitoli, ripeto, il quindicesimo e il diciottesimo, Machiavelli dice, è vero, cose, è vero, che hanno scosso profondamente, è vero, le coscienze. E in modo particolare, insomma, adesso raccogliamo tutto il suo pensiero intorno a questo punto, ecco, se c'è una massima, è vero, del pensiero giuridico e politico, classico, ricevuta anche dal pensiero cristiano, secondo la quale, è vero, pacta sunt servanda, bisogna rispettare i patti, bisogna tenere fede, è vero, la parola data, è nel diciottesimo capitolo del principe, si legge proprio esattamente l'opposto, e cioè si legge, è vero, che il principe deve essere pronto, è vero, a venire meno alla fede, è vero, e a non osservare i patti, è vero, quando le situazioni di utilità, è vero, che gli hanno consigliato di sottoscriverli, siano venuti meno, e allora deve essere disposto, è vero, a calpestare la fede, la parola data, ed avere un animo, è vero, capace di seguire i venti della fortuna, per non lasciarsene travolgere. Beh, insomma, detta così, è vero, può sembrare anche una cosa da poco, e naturalmente questa è una di quelle massime, per così dire, di quelle concezioni, è vero, che si pongono come dinamite, insomma, no, per così dire, al di sotto, è vero, delle strutture fondamentali del pensiero etico e politico occidentale, e lo sconvolgono, è vero, profondamente, perché in nessun altro trattato, è vero, dell'antichità, o anche poi dei tempi moderni, è vero, si sono lette, è vero, per quanto riguarda, è vero, questo punto così semplice, e così detto, ecco, delle dichiarazioni così dure, è vero, così perentorie, così prive di ambiguità, e così sconvolgenti, perché, insomma, effettivamente tutti noi, è vero, siamo orientati, è vero, a credere, insomma, che sì, certo, la politica non è esattamente un'arte di educande, ma tuttavia, però, ci sono delle regole, è vero, fondamentali, è vero, di dignità, è vero, di moralità, di limpidezza, eccetera, che non devono assolutamente venire meno, e Machiavelli dice che debbono, non soltanto che vengono meno, ma che debbono venire meno, perché il principe deve difendere lo Stato, ecco, ora, perché Machiavelli dice così? Beh, questa è una grossa questione, ecco, perché se noi ci limitassimo semplicemente a tirare fuori, è vero, questa massima, certamente scandalosa, e la ponessimo, per così dire, è vero, come il viatico del principe, dell'uomo politico, in senso generale, ma potremmo dire che Machiavelli è uno scrittore immorale, è un consigliere di immoralità, ecco, ripensata, è vero, questa massima, nella filosofia politica del principe, insomma, ecco, nel quadro storico, antropologico, è vero, esistenziale, che il principe rappresenta, e, insomma, allora, naturalmente poi le cose, è vero, cambiano, i problemi seguitano, naturalmente, a rimanere grandi e delicati, è vero, problemi per l'ordine politico e morale, però, insomma, si comincia poi anche a capire perché, è vero, Machiavelli possa aver detto cose di questo genere, è vero, insomma, non ci sono garanzie, è vero, di carattere religioso, è vero, di carattere morale, è vero, nel suo mondo, ci sono stati che lottano, è vero, per la sopravvivenza, sopravvivenza, che si sopraffanno, è vero, variamente, che vincono e perdono, e, insomma, il problema fondamentale è di non perdere perché altrimenti si muore, e questo è semplicemente, insomma, il dato elementare che bisogna considerare, muoiono gli stati come muoiono gli individui, gli stati cercano di non morire come cercano di non morire gli individui e, naturalmente, gli strumenti, è vero, della politica non sono niente altro che strumenti di questa, è vero, lotta per la sopravvivenza, che non è semplicemente per la sopravvazione, ma per la sopravvivenza in primo luogo e, da questo punto di vista, è vero, con questa spietatezza, per così dire, di considerazione, con quest'occhio che va veramente all'essenziale, all'ultima essenzialità, si potrebbe dire, dell'agire politico e, però, Machiavelli dice questo. Poi, insomma, il Principe non è riducibile a questa massima perché c'è ben altro, insomma, nel Principe che pure è un'opera, come dire, che è soltanto discorcio, è vero, di traverso, ecco, a fronte ai grandi problemi della vita politica perché, insomma, non si dice niente di nuovo, ma bisogna anche ribadirlo, è vero, dicendo che poi, insomma, Machiavelli non è uno scrittore monarchico, non è uno scrittore del Principe, Machiavelli è un repubblicano e il problema del Principe si pone, è vero, in una determinata prospettiva di crisi delle Repubbliche, è vero, cioè quando le Repubbliche non possono più, è vero, per così dire, con il loro apparato, è vero, politico e costituzionale, reggere alla crisi che le abbia investite e allora, insomma, debbono elaborare, come dire, strumenti anche di emergenza, è vero, perché il quadro repubblicano si è pure trasformato in qualche modo sussista e il paradosso del Principe, in un certo senso, è che da una parte ci sono queste terribili, è vero, affermazioni di, come dire, particolarissima moralità politica, lo dico tra virgolette naturalmente, e dall'altra parte però il Principe non è, è vero, il trattato del tiranno, è vero, come tante volte è stato detto, cioè di colui che calpesta le leggi, è vero, e che non ha altro riguardo, è vero, che per il suo personale potere, perché il Principe è viceversa in modi peculiari, per così dire, la teorizzazione di un principato, insomma, che si potrebbe definire con due aggettivi tecnici, insomma, del linguaggio machiavelliano, civile e popolare, cioè è un principato, è vero, fondato sul popolo, ecco, cioè su quella stessa materia prima, su quello stesso fondamento su cui si costruisce la vita della Repubblica, sebbene ora, perché la Repubblica è andata in crisi e si è salvata semplicemente attraverso lo strumento principesco, è vero, rivive semplicemente attraverso la dimensione, è vero, del Principe che però governa per, non in nome, ma per il popolo e da questo punto di vista quindi si dispone, è vero, con un carattere filo popolare, appunto, e antiottimatizio, cioè non filo aristocratico, ma mappolare. Da questo punto di vista possiamo dire che il Principe è la formulazione, è vero, più cruda dal punto di vista morale, è vero, dell'ideale repubblicano in tempi di crisi, è vero, delle strutture, delle strutture repubblicane.